Catanzarese di nascita e carabiniere per vocazione, Gianfranco Pino è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valencia. Succede a Piermarco Borrettaz che è andato a guidare il nucleo investigativo di Cremona. Gianfranco Pino proviene da Villa Nova d'Asti dove ha ricoperto lo stesso incarico e si è formato alla scuola sotto ufficiale di Velletri, poi all'Accademia Militare di Modena, quindi alla scuola per ufficiale di Roma. Poi ha prestato servizio all'estero in Kosovo e alla radiomobile di Misilmeri a Palermo. Essendo calabrese non avrà difficoltà ad ambientarsi e ad affrontare le problematiche di un territorio difficile come il Vibonese. Ritengo che possa essere un vantaggio, conosco il territorio, l'ho studiato sicuramente, ho approfondito sicuramente la conoscenza negli ultimi 3-4 mesi, ritengo di conoscere quantomeno la mentalità della mia provincia, ma sono aperto a conoscere ovviamente anche tutte le altre e riesco anche a riconoscere i dialetti delle varie province, questo potrebbe essere certamente un punto di vantaggio. È un territorio complesso, direi anche complicato, multiforme, impostare lavoro cominciando subito con una grandissima proiezione esterna e tentando di dare continuità all'ottimo lavoro che è stato svolto dai miei predecessori e grazie anche al contributo e alla disponibilità della scala gerarchica, ma anche dei cittadini che sicuramente, certamente ho visto già nel corso degli anni, hanno cambiato approccio, si stanno ribellando, stanno venendo a denunciare, continuate in questo modo, noi siamo qua, siamo qui a 24, 24 su 24, non c'è festa in cui non ci sia una pattuglia, sul territorio, a lavorare per la sicurezza di tutti, quindi continuate a rivolgervi a noi e a tutte le altre forze di polizia perché l'impegno c'è, la squadra c'è e con l'impegno di tutti riusciremo a continuare a combattere, non dico vincere la guerra, l'obiettivo è quello, ma siamo comunque sul pezzo.